C'è sempre qualcosa di magico nel presepe vivente di Alberobello. Sarà per l'originalità dei 400 coni dei trulli patrimonio mondiale dell'UNESCO che si inseguono lungo l'Aia Piccola, la zona più antica e deliziosa del centro storico. Sarà per la dedizione con la quale i 230 figuranti interpretano i personaggi di una manifestazione giunta alla quarantesima edizione. Come ogni anno il presepe vivente di Alberobello grazie all'organizzazione dell'associazione da Betlemme a Gerusalemme alla parrocchia di Sant'Antonio è un percorso ispirato ad un messaggio cristiano. Quest'anno il tema è stato quello del dono. Ogni scena ha un aspetto, un qualcosa che si dona dal sorriso al darsi a essere presenza vicino agli altri, al prendersi cura degli altri. a spendersi totalmente. Lo scenario della natività lungo i trulli fino ad arrivare alla mangiatoia è incantevole. Tra scenette e antichi mestieri si rievocano immagini dell'albero bello dell'Ottocento dove le piccole casette in pietra rendono unico il luogo. Molto particolare, dedente alla realtà e alla tradizione.